La morte della madre avvinse maggiormente eugenia a quella casa overanata, dove tanto aveva sofferto e dove la persona a lei più cara aveva chiuso gli occhi. Guardando la finestra del seggiolone nella sala, le sgorgavano copiose e irresistibili le lacrime. Le parve poi di non aver saputo conoscere fino allora l'indole del padre. Adesso egli la circondava di minute cure, le dava il braccio per scendere a pranzo, la contemplava con occhio mite per ore intere, la covava quasi come fosse oro, e così, cambiato, appariva di fronte a Eugénie che Nanon e i Crusciottiani pensarono ad un indebolimento delle sue facoltà per gli anni avanzati. Ma al pranzo di lutto cui assisteva Mastro Crusciò si scoperse il fine recondito di quella manovra. Mia cara figlia, cominciò il vecchio non appena sparecchiata la tavola e chiusi gli usci, tu sei oggi erede della mamma e bisognerà mettere in regola le cose nostre, vero Crusciò? Certo! È indispensabile proprio parlarne oggi, babbo! Sì, sì, figlietta, per me non saprei continuare in questa incertezza e credo che non vorrai procurarmi dispiaceri. Oh, babbo! Allora è meglio regolare tutto stasera. Cosa volete che faccia? Ma figlietta non è affar mio, qui il notaio ti spiegherà Signorina, sarebbe desiderio di vostro padre di non dividere né vendere i beni e di non pagare tasse enormi per il contante che possedesse. A tale scopo bisognerebbe evitare l'inventario del patrimonio, oggi divenuto comune tra voi. Ma siete certo, Crusciò, di tutto questo per metterne a parte liberamente una ragazza? Lasciatemi dire, grande. Sì, sì, amico, credo che né voi né mia figlia abbiate intenzione di spogliarmi, non è vero, piccina? Che si deve fare, signor Crusciò? chiese Eugénie un po' impazientita. Null'altro che firmare quest'atto con cui rinunziereste alla successione di vostra madre, lasciando al babbo l'usufrutto dei beni indivisi, mediante garanzia da parte sua, della nuda proprietà. Non capisco nulla di quanto mi dite, fatemi vedere l'atto e indicatemi dove devo firmare. Papà Grandè rivolse più volte lo sguardo alternativamente dalla carta alla giovanetta, con sì violenta emozione che la fronte gli si imperlò di sudore. Figlietta, soggiunse, se invece di sottoscrivere quel rogito, la cui registrazione costerà parecchio, tu facessi una rinunzia pura e semplice alla successione della cara morta, rimettendoti a me per l'avvenire, ne sarei più contento, ed a me intanto avresti una bella rendita di cento franchi al mese per far celebrare quante messe vorrai in suffragio di chi credi. Eh? Cento franchi, capisci? Ogni mese! Come vi piace, babbo? Sono pronta. Signorina, intervenne il notaio, è mio dovere avvertirvi che in tal modo vi venite a spogliare... Oh, Dio mio, che importa? Taci, Crusciò, ormai è detto, interruppe vivamente il vecchio, prendendo la mano della figlia e picchiettandogliela lieve lieve. Non ritirerai la parola, Eugenie, tu sei una ragazza onesta, eh? Oh, babbo! La baciò allora con improvvisa effusione, stringendole le braccia fin quasi a toglierle il respiro. Vedi, figliuola, tu mi rendi oggi la vita che io t'ho dato e siamo quindi pari. Così vanno sbrigate le faccende. Ti benedico, sei una virtuosa fanciulla che vuol bene a suo padre. Domani, dunque, Crusciò regoleremo l'atto di rinuncia presso la cancelleria del tribunale. A mezzogiorno del giorno seguente, infatti, Eugenie firmò la dichiarazione con cui da se stessa si spogliava di ogni avere, ma, nonostante la solenne promessa, trascorse un anno intero senza che il bottaio si curasse di pagare un soldo solo dei cento franchi mensili. Sicché, quando ella una volta glielo accennò scherzosamente, divenne rosso come un gambero, salì in fretta allo studio e ne discese con circa un terzo dei gioielli presi al nipote. Ecco, piccina, le disse con ironia, li vuoi per milleduecento franchi? Oh, babbo, me li date davvero? E l'anno venturo te ne consegnerò altrettanti, così in breve riscatterai tutti i gingilli di lui, soggiunse fregandosi le mani dalla gioia di poter speculare anche sul sentimento della figlia.